Dimmi adesso a Londra, a Cotegliariceo. Cotegliariceo è 5-6 anni, quindi 25-30 anni fa. E lei ti diceva che non ti andassi a Drio Sil perché era a Londra. Cioè, era un sistema per fare chi ti usa te e non andassi a Drio Sil perché erano altre rive proprio a picco, da parte nostra. Da parte dell'aviasione era tutto il paio che era enorme. Però da parte nostra era a picco perché una volta il Sil li ho tenia netto appunto perché erano i ponti che andava a lavare la roba. Ti ricordi? Che erano i ponti che mi facevano degno e ti andavi a lavare la roba. E poi ti diceva che non stava a Drio Sil perché c'era a Londra perché tanti potei cascavano sul Sil perché andavano a mettersi i ponti il pontile essendo inclinato e ti andavi a basso sul Sil. Ma la Londra c'era o non c'era? C'era, senz'altro c'era. Perché ne era perché i vecchi la vedevano tutti. Però io avevo, come si può dire, una paura arcaica forse, che io sa, un timore, forse anche di vedere se hai perché una volta ti sa che le robe della natura erano molto più apprezzate adesso. Cioè hai una paura di rispetto, non paura veramente. Io non faccio a me niente. Ma cosa che avevi a Natana? Come si vedeva fuori a Lugio? No, non ti puoi vedere a Londra. Ti sa come se li costruiscono il nido di Londra? Praticamente c'è un sifon nel nido di Londra. C'è un sifon sotto acqua e che ha una cavità superiore, cioè fuori dell'acqua che però non ti riesci a vederla. Cioè bisogna che ti entri dalla parte dell'acqua per riuscire a vederla. Cioè a livello non ti la vedi. Quindi i vecchi li adoperai come spauracchi e poi potei? Come spauracchi e poi potei, esatto. Però c'era, insomma. Ne erano anche diverse. Ma se li danno ai gallini, non so. La Londra no. No, la lontra si nutre solo di pesce e di animali acquatici, insomma. Praticamente vovi di pesce, pesci, vovi di osei, acquatici sempre. Adesso non ho chiesto più. Adesso no. Come che non ho chiesto più i gamberi? I gamberi no. Se dentro il paolo c'è un mammiferi, come si dice, donore, martore, faine... Ah, che era cosa, che era a Londra. A Londra. A Londra, che era che era. Quindi era tre, quattro. Una era sui tramasso, che era basso. Un'altra era qua da mazzon. Una mazzon che salia sui fossi mazzon. Un'altra era qua davanti di genio Arturo. E allora... Ma bastia sempre che il punto ero. Un'altra mia che ora nasce di quattro anni. E l'altro quando ero sola da... Ma così forti ero? Io non ero mai tanti. E cosa facevi a questi lontri? E mangiare, erano abisati. E abisati ora erano in Giappà. E che mangiare qua finalmente a Bonivolo. E l'opera sarà stato. E l'abbiamo andato la mattina, cioè questo è un confetto, però il tratamento sembrano isp катare un profetto, e poi ragazza l'aiкого ricettama, cioè ma